Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Ferri95it e siamo in diretta dal canale di Pokemon League o Pokemon Blade, chiamatevelo come vi pare, ma mi devo scusare con voi se in tutti questi giorni non ho caricato video, ma come potete sentire sto ancora male, però non potevo aspettare un altro giorno per caricare video, e niente ragazzi, sono stato male, 39 di febbre, tosso, mal di gola, non vi dico altro, e oggi vi porto un altro TCBM, oggi piove e diluvia qua, infatti di solito io faccio video con la finestra aperta, così c'è più luce, ma non c'è luce come potete vedere, perché piove e non posso aprire la finestra, comunque sia, un TCBM fatto con, io so tutto quello che non sai, questa è la busta, si chiama proprio così ragazzi, il link sarà in descrizione del suo canale, io so tutto quello che non sai, e ci manda delle ex, un sacco di carte molto speciali, ci scrive ecco le carte, spero che siano queste, mi raccomando a raguazza che ci tengo molto, buon proseguimento e grazie di tutto, mi raccomando spedisci la carta, Adriano, ok, grazie infinita Adriano e vediamo le carte, sono molto belle ragazzi, la prima carta più bella è questo fantastico di alga, livello X, che ha un errore di stampa ragazzi, come potete vedere il bordo qua sotto è più grande di quello sopra, guardate e vale molto, anche se è promo, però ho anche quest'errore di stampa, vedete? piccolo, grossissimo, piccolo, grossissimo, bellissima carta, le scambio tutte ragazzi la seconda carta è questo snizzle, che non voglio scambiare perché è una carta veramente spettacolare, tutte queste righe qua è veramente spettacolare, il tipo rocket, fantastico poi ci spedisce questo, oh oh leggenda, bellissimo poi questo anfaro spray, che scambio tutto, ripeto questo golem X, che ce l'ho doppio, però lo stesso bellissimo infine questo raguazza promo X, veramente bello, metti a fuoco vabbè lo metti a fuoco scusate ragazzi vabbè, comunque il video è terminato, ricordo di iscriversi al suo canale iscrivetevi anche al mio, commentate e mettete un mi piace iscrivetevi alla pagina facebook e metterò anche il link della raffle che è in corso, è una raffle veramente molto bella iscrivetevi, è facilissimo, iscrivetevi alla pagina facebook e ripeto, fra poi ci sarà l'apertura del box di cold afraid of freezer board come speciale Halloween e niente da FEDRN35ID è tutto, qui dal canale di Pokemon League e ciao